Ehm, di qua? Di qua c'è qualcosa? Permesso? Non so dove sto andando, raga Cioè, qua mi porta avanti, ma... Io ho scordato un sacco di cose Questa cosa continua a tornare in vita da lì? Vabbè, scemo Ciao Allora, io posso assicurarvi che non c'entro nulla Sono qua per sbaglio Ma perché c'è tutta sta c'è? Quello è decollato Vieni giù, vieni Wiii Io sono qua per sbaglio Io ho lasciato un sacco di roba indietro Perché non mi crede nessuno Visore per il test di campo Ho proprio visto un metroid Qui c'è un metroid Ciao Che fai? Esci? Non esci? Sei lì? Ti piace? Se gli piace? Chi sono i pregiudicati? Vado giù, eh? Oh no! Non voi! Maledette telecamere Ti prendo un po' più di mira comunque Sono proprio infami Questo è un qualcosa? Per me? No Sono morfosfera Samus Visione termica comunque Sembra... Cioè potrebbe essere benissimo Tipo un visore termico Che ci fa vedere Qualcosa circuito principale Il contenitore centrale è stato scollegato Disattivare i tre campi di forza Ok E quali sono? Ci sono tre campi di forza Me li indica Porta non si può aprire con quell'arma Cosa? Che porta è? È bianca Ma che colore è? Che caccia misera è per il bianco? Ok Comunque ci saranno tre Tre cosi Tre circuiti Da scollegare E dove sono? Questi? No eh Non credo A meno che non... Ma guarda che c'hanno le impronte Per le impronte digitali Eeeh Sì Visori prototipi Personal Ho capito Ehm Scusi lei No? Non mi spiega niente? Ci dovrà essere qualcosa Da disattivare Questi sono? Dove cacchio stanno? Sono tre circuiti Ho detto Sono qua sopra Sono qua sopra No la palla Samus Niente palla Circurso di controllo Il contenitore centrale È stato scollegato Davvero Ahia Era così facile Oh Oh No è un altro Oh what the hell C'è un altro Di quei bottoni rossi Eh Dov'è? C'è la del metroid C'è la del metroid Dentro la La cosa È questo Circuito Isilare Del contenitore centrale È stato scollegato Posso averlo? Per favore Oh Grazie Ok Quindi adesso Abbiamo il visore Termico No Non mi puoi Mettere ancora Un'altra roba Col meno Oh Santissimo Cosa mi serve A me il visore Termico Scusate È questo Orca miseria Vedo 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 Ora la domanda è Che cacchio Me ne frega Cioè cosa Cosa me ne faccio Io di vedere I nemici così Tanto li vedo comunque A meno che Da uno Adesso si libera anche Adesso si libera anche l'altra State a vedere Dov'è La Classic Giusto per vedere Come cacchio Che ci si libera Che ci si libera Ok Assorbimi Ok Assorbimi Ok divento una sfera E lo faccio esplodere Ah ma si è spenta la luce Comunque Ecco perché dovevamo usare il visore Perché si era proprio spenta la luce Qua si apre Non ho capito Che è Che è Che è sta cosa Levami sto visore Non ci vedo niente Ma che 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 succede Aiuto Perché Perché Permesso Che Che è 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 Oh no ma qua ci sono un sacco di di metroid Almeno due Tanto si sfonderanno No Quelle porte Che non sono porte Questo cos'è Ah l'ascensore Ma non ci capisco niente Aiuto Dove va Ti fermi Non ci capisco un cacchio Io raga E non so come farete A capirci voi E magari se siete abituati Un conto però Cacchio mi Ma porca Dove sto andando Si è acceso qualcosa Oh no Sono i cosi Sono i droni Dove sono Aiuto C'è la luce Dai ma è tutto buio Bastardi Lo uccido Si Ok Ok calmi Calmi Se ci fosse un pellino di luce Magari Riuscire a capire dove sono Dato anche che mi sto Scordando Diverse cose Ma io sono sicuro Cioè io sto andando avanti Ma Sicuramente Ho dimenticato il mondo Ok vado eh Che casino Che casino Quanti Quanti upgrade Quanta roba Eh no eh Eh no eh Fuori dai Tanto lì non c'è niente Abbiamo constatato C'è solo un casino Ah ma ti fa vedere anche le porte Attraverso i muri Vabbè Chi c'è qua? Ah questo è lovo del pianeta Aspetta Ho capito dove siamo Allora aspetta Prova ad andare di qua Prova ad andare di qua Ah il salvataggio Ok Non lo so ragazzi Sto andando avanti Cioè sono sicuro Che sto andando avanti Ma Con sto coso Ci vedo meno di niente E sapete che è un problema Vedere meno di niente Oh fuck Eccomi Vabbè Poi trema Cosa che sta tremando adesso qua? Che è sto coso? Ah ok Lì è dove abbiamo aperto le porte Lo sentite il rumore vero? Beh Ma l'importante è che lo sentiate Esco Sentite sto rumore? Cos'è? Ah ancora loro Ancora loro Maledetti Morite Oh Ok questa era la porta che avevo aperto Permesso? Ok C'ero venuto da qua io Ti parlo non è giusto Che loro mi possano vedere Ma loro stanno attaccati alle pareti? Cioè stanno nel soffitto Questi cosi? Ma che schifo è alien? Sono degli alien Guardali Sono dei cacchi di alien Guardali Schifosi Schifosi Aiuto Piano Piano Uno alla volta Uno alla volta Giù terra Dove sono? Che posto è? Ma perché? Mi fanno vedere niente Vado Ma io sto tornando indietro Giusto? Questo potete confermarlo Sto tornando indietro Messo Ancora Però abbiamo volato via E' fatto una brutta fine Ehi ehi Giù le mani Comunque tornano in vita O no? No forse sono in tanti Vado Guardali 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 Li assatanatissimi Sono assatanatissimi Ancora Fuori Fatemi capire dove cacchio sono Fermiamoci Fermiamoci un momento C'è una porta blu Qui Questa è un salvataggio No è la mappa Questa è la mappa Sì Ok Ma allora aspetta Ma noi non abbiamo la mappa Holy shit Allora Quindi adesso noi Cioè Se troviamo la mappa Possiamo sapere tutto Però in alcuni Non ce l'abbiamo La mappa Allora Aspetta un attimo Cortile sospeso Aspetta Questa è la sinistra Vero? Fermi 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 Ho capito Allora io devo ritornare Al punto Vi ricordate che avevo scelto C'era il bivio Sinistra Destra Dritto Ok Non lo vedo il colore Siccome è Vi ricordate che avevo scelto Sinistra Destra Dritto Ecco Adesso Innanzitutto Fammi vedere se posso Posso levarlo Vado di là Permesso Ottimo Ah un salvataggio Va bene In questo caso Allora penso che Possiamo salvare qua Controllo un attimo la mappa Ma mi sa che Nella stanza Dall'altra parte C'era qualcosa di brutto Di qua esattamente C'è quella roba brutta Perché non c'ero andato Di là Aspetta Ah perché era chiuso Era chiuso Aspetta 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 Fammi capire un attimo Perché qua vedo che c'è una lucetta E voi sapete che le lucette Vogliono dire solo qualcosa Vabbè Comunque ragazzi Penso che Per oggi Possiamo terminare qua Tanto abbiamo visto Ci saranno altre cose Da dove vengo io Ah si Ok Ci saranno altre cose Non so dove dove andare Ma lo scopriremo Io penso che per adesso Possiamo terminare qua Dai calmo Fermati Noi ci vediamo Prossima parte Metroid Prime Uno Proviamo a cercare Una via Da qualche parte Per muoverci Perché se no Non sappiamo cosa fare Qui da Landolf è tutto Ciao a tutti